L'acidia è un brutto peccato peggiore dell'avere un cuore tiepido perché vuol dire vivere senza avere la voglia di andare avanti. È la riflessione che Papa Francesco ha formulato nel corso dell'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta. Partendo dal Vangelo odierno, del paralitico guarito da Gesù, il Pontefice ha chiarito che ogni giorno il Figlio di Dio ci propone la guarigione, ma troppo spesso siamo presi dalle lamentele, ossessionati dalle cose che non vanno come vorremmo, pensieri che coltivano l'acidia mentre la gioia si affievolisce. Oggi il Signore, ognuno di noi ci dice alzati, prende la tua vita come sia, bella, brutta, come sia, prendela e vai avanti. Non avere paura, vai avanti con la tua barella, ma Signore non è ultimo modello, ma vai avanti con quella barella brutta forse, ma vai avanti, è la tua vita, è la tua gioia. Vuoi guarire? Prima domanda che oggi ci fa il Signore. Sì, Signore, alzati. Nell'antifona all'inizio della Messa c'era quell'invito tanto bello, voi che avete sette venite alle acque. Sono acque gratis, non a pagamento. Voi dissetteate con gioia. E se noi diciamo il Signore, sì, voglio guarire, sì, Signore, aiutami, voglio alzarmi, sapremo come è la gioia della salvezza.